Benvenuti nel mondo degli orologi sicura. Sicura è un marchio svizzero di orologi che ha una lunga storia. Fondata nel 1957 da Ernest Schneider, l'azienda ha acquisito il marchio Breitling negli anni 70, diventando uno dei principali produttori di orologi di alta qualità nel mondo. I primi orologi sicura si contraddistinguevano per una tecnologia innovativa che li rendeva resistenti agli urti e alle vibrazioni, grazie alla presenza di una molla a spirale interna che proteggeva il movimento dell'orologio. Questa tecnologia, chiamata Shockproof, ha permesso a Sicura di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di orologeria. Negli anni successivi, il marchio ha continuato a innovare, sviluppando orologi sempre più sofisticati e di alta qualità. Oggi, Sicura fa parte del gruppo Breitling e continua a produrre orologi che uniscono design e prestazioni tecniche avanzate. Uno dei modelli più famosi di Sicura è il Jump Hour, un orologio con un movimento assalto che mostra l'ora in un formato digitale. Questo orologio è diventato un'icona del design degli anni 70 e continua ad essere molto apprezzato dagli appassionati di orologeria. Ma i prodotti di Sicura non si limitano al Jump Hour. Il marchio produce una vasta gamma di orologi, dalle linee classiche a quelle più sportive, tutti caratterizzati dalla qualità dei materiali e dalla precisione del movimento. Ma i prodotti di Sicura non si limitano ai soli orologi. Il marchio produce anche accessori per orologi, come cinturini in pelle, braccialetti in acciaio inossidabile e custodie per orologi.